... 13 febbraio 2016, LibriTV, Gianni Colacione, qui alla sede del Partito Radicale, in convegno sulla direttiva a Bolchezza, ne abbiamo incontrato il dottor Sabella, il dottor Sabella TV lo aveva lasciato se non erano un'intervista al Campidoglio, in cui ci diceva che era prima dell'estate, in cui ci diceva che praticamente ormai si aspettava la fine della stagione balneare perché le concessioni di Ostia venissero revocate, insomma era tutto pronto, le concessioni balneari, già aveva detto più di una volta che erano praticamente su 71 tutte quante ci avevano dei problemi, però vediamo che purtroppo le cose vanno un po' a rilento in questo senso. Io credo che si stia continuando a lavorare in quella direzione, ho visto per esempio che se l'ufficio condone edilizio sta lavorando così come avevamo concordato nel tirar fuori dalla pila di pratiche che aveva, quelle che riguardano gli abusi edilizzi commessi sul litorale e quindi avviare le procedure di rigetto, rigettato i condoni a quel punto la decadenza è pressoché automatica del concessionario, perché ha commesso un abuso, ha violato le concessioni di De Maniali. Quindi praticamente tutto il lavoro che lei ha fatto è che poi dopo per tutto quello che è successo, le dimissioni del sindaco ha sospeso un lavoro preziosissimo che poi abbiamo sentito anche intervenire in questo convegno attuonato, veramente parole di fuoco molto pesanti dicendo cose molto gravi, noi avevamo il timore in qualche modo che la sua attività che era anche abbastanza rapida, decisionistica con un certo piglio e insomma si stesse un po' dilungando un po' troppo per una revoca, insomma ci vuole tanto. Beh no, un po' di tempo ci vuole in realtà, bisogna scrivergli bene i provvedimenti per evitare problemi altare, io ero pronto già perché avevo preparato le bozze già delle alcune determine di decadenza per una quindicina di stabilimenti ma potevano diventare anche un pochino di più per quelli per cui ero assolutamente certo di riuscire a ottenere il risultato, è chiaro che chi è arrivato adesso sta lavorando, ha dovuto ricominciare purtroppo una parte del mio lavoro ed è giusto che si renda conto guardando le carte, io ho impiegato parecchi, ho dedicato parecchi sabate e domenica all'UAL ad andare a studiarmi concessione per concessione, andare a vedere come era nata, come erano state fatte le prologue, quindi è un lavoro comunque lungo e complesso, certo il fatto che io avevo qualche vantaggio perché già conoscevo le carte, c'è chi ha dovuto studiarsela adesso ma mi pare che si stia andando nella stessa direzione. Bene, la sua presenza qui concessione ci rassicura perché in qualche modo è come se lei pegliasse un po' su questa giunta di transizione, insomma su questa amministrazione di transizione commissariale e poi quello che verrà, una parola su queste amministrative, pare che l'ex sindaco si ricanditerà, ci sono parecchi candidati centro-sinistra, lei che ne pensa? Non mi faccio esprimere giudizi politici, faccio il magistrato, adesso sono ancora in attesa di rientrare il ruolo, cosa che avverrà nel giro di pochi giorni e adesso, quindi sul piano politico non esprimo qualunque nessun tipo di… Come cittadino. Però posso dire una cosa che per quello che io ho visto all'interno della macchina capitolina romana, chiunque sarà chiamato a governare Roma deve per prima cosa mettere le mani in maniera profonda, sostanziale e concreta alla macchina amministrativa capitolina, deve renderla una macchina amministrativa in grado di governare la capitale d'Italia e non un piccolo comune. Non mafiosa ma corrotta? Non mafiosa, sicuramente Roma non è una città mafiosa, attenzione Roma ha le mafie nel suo territorio ma non è una città mafiosa, Roma purtroppo è una città profondamente corrotta, questo è inutile negarlo, c'è oltre alla corruzione c'è anche una scarsa capacità oggettiva della pubblica amministrazione di far fronte a quelle che sono le esigenze amministrative della capitale d'Italia e su questo bisogna insistere, bisogna lavorare molto sulla formazione dei dirigenti, sulla selezione dei dirigenti e sulla struttura della macchina amministrativa per renderla più rapida, più funzionale, più preparata, più adatta a quelle che sono le esigenze di una grande città come Roma. Grazie dottor Sabella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.